Ciao a tutti, sono Giuseppe Ancona e sono responsabile tecnica dell'Associazione Fiche. Noi ci occupiamo di ginnastica ritmica dal settore promozionale al settore agonistico. In questo periodo non abbiamo perso la voglia e l'entusiasmo di seguire le nostre ginnaste, abbiamo continuato a seguire allenamenti online per il settore agonistico, lanciato sfide tecniche collaborative per le ginnaste e le loro famiglie e inviato tutorial per tutte le ginnaste. In questo momento sento di inviare un messaggio di speranza a tutti, con l'augurio di tornare presto in palestra, è la nostra normalità. Il nostro motto è volere potere e never give up. Quindi non mondiamo, continuiamo a rispettare le regole e nel frattempo io mi alleno a casa. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, skip. E uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, east, dere, quattro, cinque, sei, sette, 8, 7, 8, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. 5, 6, 7, 8, frontale, 1, 2, 3, e 4, onda 5, e 6, sinistra, e 7, e 8, davanti, e 1, 2, 3, e 4, e 5, 6, 7, e rovescio, e 1, 2, 3, e 4, torno avanti, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, e 1, 2, 3, e 4, 5, 6, 7, e 5, 6, 7, 8, 2, 3, e 5, 7, 8, e 1, 2, 3, e 5, 6, 7, 8, e apro, 2, 3, e 4, Storti 178 Storti 178 Storti 178 Storti 178 Storti 178 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tutto passerà Grazie a tutti Grazie a tutti Tutto passerà Tutto passerà Tutto passerà Tutto passerà Se espalda e vola Tracy Tutto passerà Grazie a tutti.